310.000 euro e tempi record per la riapertura della piscina comunale di San Giovanni Tiatino all'interno della cittadella dello sport a San Buceto. Durante la riconsegna della struttura, chiusa a seguito dell'alluvione dello scorso 2 dicembre, il gestore ha annunciato la riattivazione di tutti i servizi. La piscina ha quindi recuperato tutte le funzionalità messe a dura prova da oltre 3.700 metri cubi di acqua piovana che mandarono in tilt tutti i macchinari dell'impianto sportivo. 6 mesi di tempo per tornare ad avere una piscina nuova di Zecca sono un vero record, ha dichiarato soddisfatto il sindaco Luciano Marinucci, in considerazione di quanto siano lunghi tempi della burocrazia italiana. Tanto per ricordare quella fatidica data del 2 dicembre 2013, dobbiamo ricordare anche che il sacrificio umano della signora Anna Maria Mancini, che ha perso la vita nel sottopassaggio di Fontanelle, comunque può dimostrare la gravità dell'evento. L'amministrazione comunale di San Giovanni Tiatino in tempi veramente record, riferito all'amministrazione comunale, è riuscita in giro di 6 mesi ad avere la struttura già ampiamente funzionante con migliorie notevoli, sia in termini di funzionalità ma anche di strumentazione. Inoltre l'amministrazione comunale ha investito 1.600.000 euro per il miglioramento dei parcheggi e degli altri impianti sportivi, quindi porteremo il capolinea della linea urbana direttamente dentro la piscina. Penso che l'area metropolitana Chieti-Pescara potrà avere nella piscina comunale ma nell'impiantistica sportiva della cittadina dello sport di San Giovanni Tiatino un grande punto di riferimento. Noi siamo pronti, lo staff è pronto, la squadra è pronta, quindi aspettiamo con ansia e con affetto di tutti gli utenti della nostra struttura sportiva. Il costo dei lavori è coperto dall'assicurazione, conclude il sindaco, il quale annuncia anche l'inserimento di un sistema di controllo antiallagamento nell'impianto. Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 16 giugno. Gli utenti che non hanno chiesto il rimborso degli abbonamenti stipulati con la piscina potranno recuperare entro la fine di dicembre 2014 gli ingressi dei quali non hanno potuto suffruire nel periodo di chiusura della struttura.